Ciao Giabina, tanti auguri! Oh mamma come diventi vecchia! Allora partiamo dal fatto che parlarti in italiano mi sembra già stranissimo quindi farò un po' fatica ma ci provo. Ormai ti conosco da 20 anni quasi, non è vero perché non ne ho ancora 18 io quindi è impossibile però è come se fosse così e in questi anni ho capito che sei una persona fantastica, una delle più speciali al mondo sei la mia ancora, non sempre eh, perché a volte mi fai veramente arrabbiare ma io penso che questo sia reciproco e ci voglio un mondo di sene e tanti auguri! Ciao Giadina! Oggi è il compleanno di Giada che per me è una ginnasta fantastica e io la vedo come una sorella e le voglio tantissimo bene. Un bacio, tanti auguri Giadi! Ciao Giadi! Oggi è un giorno speciale, il giorno del tuo compleanno e volevo dirti che sei una ginnasta fantastica e che io ti ammiro molto e vorrei diventare come te e che ti ringrazio per tutte le volte che mi hai sostenuto soprattutto nelle gare di serie A e mi hai dato forza e poi anche se magari sbagliavo qualcosa alla fine dell'esercizio mi abbracciavi sempre e mi davi forza per continuare al miglio ti voglio un mondo di bene Giadi! Auguri! Ciao Giadina! Oggi è una giornata molto importante perché oggi è il tuo compleanno quindi volevo farti tantissimi auguri per i tuoi vent'anni e volevo dirti che per me sei un'amica veramente importante nonostante io sia con voi comunque da poco tempo mi sembra di conoscerti da tantissimo e come se fossi sempre stata presente per me soprattutto in questo periodo abbiamo legato tantissimo e sono veramente felice per questa cosa perché ho trovato un'amica veramente speciale e niente volevo solo augurarti auguri per i tuoi vent'anni e niente spero che questa giornatura possa passare nel migliore dei modi e che tu ti possa divertire tantissimo e niente ci vediamo presto voglio augurare tantissimi auguri a una persona che per me è speciale penso di lei che sia una persona che ti faccia venire il sorriso la prima volta che la guardi tantissimi auguri Giadi! Non vedo l'ora di riabbracciarti! Ciao! Tanti auguri Giadi! Penso che tu sei una buona compagna, mi manchi tanto e nel frattempo divertiti! Un abbraccio da Emma! Ciao Giadi! Tanti auguri di buon compleanno! Un bacione! Ti voglio un mondo di bene e sei una persona veramente speciale anche se qualche volta litighiamo un pochino ma si fa subito pace perché non si può essere bene con te, è impossibile e niente, ti voglio un mondo di bene Giadi! Ciao! Buon compleanno! Ciao Giadi! Tanti auguri! Spero che passi questo compleanno benissimo! e per me sei una bravissima ginnasta, gentile e simpaticissima! E niente, ciao! Spero di vederti presto! Innanzitutto tanti auguri Giadi e per me Giadi è una amica veramente speciale ed è come se fosse una sorella e mi manca tanto! Ciao Giadi! Come stai? Tantissimi auguri di buon compleanno! Mi manchi tantissimo! Penso che sei una persona fantastica veramente perché quando qualcuno ha bisogno di te tu ci sei sempre e hai tantissima forza di andare avanti e voglia di fare e mi dispiace che in questo giorno speciale io non sia lì con te però ti faccio tantissimi auguri da qua! Auguri Giadi! Ciao Giada! Volevo farti gli auguri di buon compleanno! Per me sei una persona speciale! Ho sempre pensato che tu sei una grande ginnasta ma da quando ti ho conosciuta ho scoperto che sei anche una grande amica! Ti voglio bene, mi manchi tantissimo e speriamo di rivederci presto! Ciao! Tantissimi auguri di buon compleanno e sappi che le sorprese non sono finite! Grazie a tutti!